Un nostro consulente specializzato Audi è a tua completa disposizione per offrirti il servizio di personal shopping. Da casa come in showroom potrai avere maggiori informazioni sul modello che ti interessa, sulla disponibilità in pronta consegna, sul noleggio a lungo termine o sul leasing. Grazie alla virtual concierge potrai anche prenotare un appuntamento per un preventivo o per un test drive. Un canale diretto pensato per chi vuole risparmiare tempo e in tutta semplicità mettersi in contatto con il nostro showroom Audi. Rivolgiti al personal shop per Reggini, sarà pronto a guidarti nell'universo Audi indicandoti le soluzioni migliori per trovare l'auto più adatta alle tue esigenze. Il servizio è attivo dalle 8.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 da lunedì al sabato. Contattaci alle 346 50 53 855.